E ora mi presento Alberto Corò, da Città di Padova. Alberto, come sapete, ha coordinato il gruppo informatico del Comune di Padova, che ha avuto un ruolo non solo nel rendere più fluidi le relazioni con la città, e quindi anche per la collaborazione rispetto ai beni artisti culturali, ma Alberto ha avuto anche un ruolo molto importante nello sviluppo di tecnologie, in particolare nella predisposizione della digitalizzazione dei reparti artistici e culturali che la città ha messo a disposizione, e questo immenso tesoro che è stato digitalizzato, ma di questo ci dirà Alberto una sua presentazione che si intitola The Role of the City in Cult.IR and City Perspective on Future Exploitation. Thank you very much, Alberto. Buongiorno a tutti. Allora, il Comune di Padova in questo progetto si è occupato proprio di fornire, essere il fornitore dei contenuti culturali. In realtà abbiamo anche partecipato a quella che è stata la fase di design iniziale, cioè quella del concept, nella creazione del concept, portando quello che è l'esperienza e la professionalità del Comune di Padova nell'ambito della fruizione dei beni culturali e nell'utilizzo, diciamo, nella fruizione da parte di turisti. Il CULTAR si inquadra in una progettualità complessiva del Comune di Padova nella preservazione dei beni culturali in formato digitale e quindi vi presenterò all'inizio quello che è stato il contesto in cui il CULTAR si è inserito all'interno della progettualità del Comune di Padova. Il progetto va sotto MABI, che sta per Musei, Archivi e Biblioteche. Un contesto quindi generale, culturale, visto nel suo insieme e non più come contesti assestanti, quindi un sistema di fruizione, di consultazione, di catalogazione dei beni culturali in un unico contenitore generale disponibile per sia operazioni di accesso a carattere scientifico ma soprattutto per la fruizione da parte degli utenti, dei cittadini, dei turisti. Quindi quali sono gli obiettivi di MABI? Gli obiettivi di MABI sono quindi creare un unico contenitore, un unico sistema di contenuti culturali in formato digitale. Fare la preservazione perché anche il bene digitale ha un valore perché per poterlo acquisire un quadro è stato fotografato piuttosto che è stato acquisito un video piuttosto che e qualsiasi altro contenuto digitale ha un valore, quindi questo valore va, questo contenuto va preservato nel tempo. I contenuti sono certificati, quindi il contenuto è un contenuto che è stato avvaliato da esperti, diciamo che possono essere esperti in archivi, esperti in beni architettonici, esperti in arte. Il sistema permette anche la vendita dei beni digitali che quindi permette in qualche maniera il sostentamento del progetto. Il sistema prevede un diverso tipo di accesso e anche un'interfaccia differente per il tipo di utilizzo. Prima vi parlavo, può essere un utilizzo di consultazione in tipo generale, quindi da parte di utenti che tramite internet accedono alla banca dati culturale del Comune di Padova, ma è anche un sistema che permette l'accesso e le ricerche per specialisti, per esperti nel campo culturale. Quindi prima vi dicevo, gli ambiti, i contenuti culturali riguardano musei, archivi e biblioteche. Cos'è che abbiamo utilizzato? Proprio perché la banca dati dovrà essere una banca dati di contenuti certificati. Ci siamo basati su degli standard di catalogazione, che sono degli standard nazionali, ma di derivazione internazionale, che permettono quindi di catalogare e censire tutti gli oggetti culturali secondo degli standard di riferimento che sono dettati dal Ministero dei beni culturali del governo italiano. Come vedete, gli standard sono quelli tipici dei beni culturali, che possono essere appunto beni archeologici, beni artistici, bibliografici oppure di archivio. E insieme a questi standard ci sono anche gli standard di descrizione dei beni digitali, come il Dublin Core, o il MAG, che è un altro standard italiano che ha una sua corrispondenza in Europa con il MEZ. Quindi ci sono gli standard dettati dall'Istituto Centrale del Catalogo, l'OPAC e l'ISAT. Questo è il website di riferimento con cui ci confrontiamo continuamente, che è il repository di tutti gli standard catalografici del Ministero dei beni culturali. E gli standard, naturalmente, siccome noi andiamo oltre che a catalogare dei beni, ma anche ad archiviare degli oggetti digitali, gli oggetti digitali portano appresso naturalmente delle informazioni, dei metadati che sono tipici della gestione dei dati digitali, tipicamente delle immagini. Quindi l'utilizzo del Dublin Core e del MAG. Cosa che abbiamo, naturalmente, il Comune di Paro ha un patrimonio digitale che negli anni si è creato in modalità anche diverse e utilizzando a volte gli standard catalografici che vi dicevo prima, altre volte un po' meno, però negli anni, in questi 10-15 anni, il Comune di Paro ha accumulato nel tempo circa 2 milioni di oggetti digitali e quindi si è posta il problema di doverli archiviare in un sistema unico perché partivano da N sistemi, da più sistemi, quindi più sistemi di archiviazione con metodologie sia informatiche che di catalogazione di tipo diverso e con difficoltà di ricerca e di creazione delle relazioni fra gli oggetti digitali perché erano su banche dati differenti. Questi sono gli esempi di sistemi informatici che utilizziamo e sono in via di dismissione perché adesso vi spiegherò qual è il sistema su cui stiamo convogliando, stiamo portando tutti i beni digitali, sono degli esempi di schedature di beni digitali. Queste sono delle foto, questo fa parte del gabinetto fotografico del Comune di Padua, quello di prima è un reperto del Museo d'Arte. Queste invece sono delle immagini di riviste dei primi del Novecento che sono state digitalizzate proprio per non perderle perché la carta cominciava naturalmente a deteriorarsi e qui abbiamo circa 200.000 immagini di riviste della provincia di Padua che descrivono il territorio della provincia di Padua. Queste invece, abbiamo circa quasi un milione di immagini, sono gli atti, documenti che riguardano il Consiglio Comunale di Padua. Questo è del 1866 e è una delle prime delibere del Comune di Padua. Infatti, se vedete, c'è, diciamo, l'intestazione appunto Vittorio Emanuele II, Red Italia. Questa è l'interfaccia, la nuova interfaccia del sistema Mabi, che è il nuovo sistema su cui stiamo portando tutti i contenuti che avete visto prima, circa 2 milioni di oggetti digitali. Qui è una semplificazione di scheda. E quello che adesso andremo a spiegare un po' è quello che è stato il processo con cui noi abbiamo conferito, abbiamo portato i contenuti in CULTAR, partendo dalla progettualità che poco fa vi ho spiegato. Naturalmente Mabi utilizza tutta una serie di schede, che sono le schede RA, schede per appunto beni archeologici, schede per gli oggetti e opere d'arte, per la fotografia e così via. Queste schede, naturalmente, sono delle schede molto complesse, che magari non si adattavano perfettamente al, diciamo, lo schema dati, ai metadati che invece CULTAR voleva. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo individuato un sottinsieme di informazioni, un sottinsieme di dati che fosse, diciamo, utilizzabile da CULTAR. E quindi abbiamo individuato all'interno delle varie schede, delle varie tipologie di oggetti culturali, digitale, abbiamo individuato un sottosette, un sottinsieme di informazioni, di metadati da, diciamo, portare a patrimonio del progetto CULTAR. Naturalmente quello è Mabit for CULTAR. Poi abbiamo aggiunto ulteriori informazioni, quindi dalle schede degli oggetti che vi dicevo prima, abbiamo dato ulteriori informazioni, che adesso vedremo quali, quindi ulteriori dati, e soprattutto ulteriori contenuti. Ad esempio il primo, fatto da Antti, che parlava appunto del 3D model, e tutta la parte di fotografia, di foto, delle immagini che sono servite per, diciamo, la ricostruzione 3D, è stata fatta ex novo, cioè una campagna fotografica che non avevamo all'interno dei nostri contenuti digitali. Naturalmente il CULTAR Conte, oltre ai contenuti che avevamo a disposizione, quindi che sono collegati ai cosiddetti punti di interesse, aveva necessità anche di costruire delle storie, degli itinerari, e quindi abbiamo partecipato, questa cosa qui non le avevamo, quindi abbiamo partecipato alla costruzione di queste storie, di questi itinerari, per la fruizione, insomma, della visita della città di Padua. Questo è il modello di CULTAR, quindi abbiamo dovuto, in qualche maniera, trovare, far sì che le informazioni che aveva il Comune di Padua potessero confluire, potessero essere inserite all'interno di questo modello di dati. Non è stato un lavoro semplice, perché, come chiunque ha un po' di dimestichezza di sistemi informatici, e le informazioni che si sono collocate su basi informativi, basi dati differenti, che hanno strutture differenti, il lavoro per poter mappare da una base informativa ad un'altra è sicuramente un lavoro molto oneroso. Altri contenuti che abbiamo conferito non sono stati solo quelli culturali, ma sono stati anche quelli legati ai servizi, cioè la fruizione della città. Quindi, come avete visto prima, anche dalla presentazione, non c'erano solo contenuti culturali, ma se io, insomma, visito la città, ho voglia di vedere, diciamo, il sito archeologico, il monumento, ma anche ho necessità di fruire dei servizi, quindi di andare a un bar, a mangiare, piuttosto che una farmacia o quant'altro. E quindi abbiamo, elaborando le banche dati a disposizione del Comune di Padova, abbiamo portato queste informazioni all'interno delle banche dati di CULTAR. Altri contenuti che non avevamo, che abbiamo dovuto recuperare sicuramente, sono stati quelli legati agli audio, ai video, diciamo alle storie, come vi dicevo prima, contenuti che erano anche questi messi su sistemi differenti, tipicamente sistemi legati al turismo, vedete le audioguide, diciamo, legate appunto alla fruizione della città, piuttosto che effetti sonori, quindi riproduzione di eventi storici, che abbiamo quindi recuperato in differenti siti, in differenti, diciamo, sistemi, e quindi abbiamo confluite anche queste all'interno, diciamo, del progetto CULTAR. Quindi è una grande opera, diciamo, di raccolta di contenuti, sia quelli strutturati e anche quelli non strutturati, come, diciamo, le audio. Poi, cosa che abbiamo fatto? Siccome dovevamo anche, in qualche maniera, effettuare un'attività, perché questa attività di raccolta doveva essere, in questo punto, posizionata e georeferenziata all'interno del territorio e soprattutto nell'ambito, diciamo, della comunicazione con i nostri colleghi, bisognava, in qualche maniera, colleghi, diciamo, stranieri, che quindi la città, magari poco la conosco, o quant'altro, bisognava, in qualche maniera, realizzare un sistema che posizionasse sul territorio e che permettesse loro di capire subito quali erano i contenuti, a cosa erano collegati nel territorio e quali erano le relazioni fra questi contenuti. E quindi, cosa abbiamo creato? Abbiamo creato una banca dati appoggiata su un sistema informativo territoriale, su un GIS, che è basato su cartografia OpenStreetMap e abbiamo, diciamo, collocato all'interno di questo sistema circa 3.000 punti di interesse. Qui, naturalmente, è uno zoom intorno al Palazzo della Ragione, quindi, come vedete, sono anche colorati in maniera diversa, sono gli oggetti artistici, sono arancioni, diciamo, i servizi, la parte di ristorazione sono in giallo e in rosso e così via. e qui un esploso, cioè praticamente una presentazione di quelle che sono le relazioni ad esempio con il Palazzo della Ragione. Vedete quanti oggetti sono stati collegati al Palazzo della Ragione con, diciamo, all'interno addirittura una selezione dell'oggetto che è il cavallo di legno all'interno del Palazzo della Ragione. e qui è un altro dettaglio in cui sono evidenziate come all'oggetto, a un punto di interesse, ci sono dei contenuti che sono di tipo testuale, vedete, nel scorso, sono di tipo immagine, sono dei, diciamo, qui non ci sono gli audio, ma potrebbe esserci anche audio o video, quindi abbiamo creato questo sistema che è un sistema intermedio semplicemente per poter facilitare poi il passaggio delle informazioni e la comprensione da parte dei colleghi ricercatori, la comprensione del, diciamo, della bancarata e dei contenuti. Poi, come vi dicevo prima, abbiamo fatto un lavoro veramente pesante, questo è stato un lavoro veramente impegnativo che hanno, insomma, impegnato parecchi mesi di lavoro che è stata una campagna fotografica, una ripresa fotografica di praticamente tutte le tre le zone che sono state oggetto di sperimentazione di Cultar, quindi la zona degli Eremitani, cioè la Cappella degli Scovegni, la zona del centro delle piazze, la zona di Prato della Valle e del Santo. Io vi faccio vedere un esempio di sequenza di foto, quindi abbiamo fatto 22 solamente per generare alla fin fine questa facciata del Pedrocchi. Questo è un esempio, ma gli altri esempi possono essere questa che è la facciata del Bo, piuttosto che del Municipio, piuttosto che diciamo del Palazzo del Capitanio che è appunto in Piazza dei Signori. Quindi questo tipo di attività ha impegnato tantissimo il Comune di Pado e abbiamo fatto circa 5.000 foto e abbiamo ricostruito più o meno 500 edifici. Insomma, nella... Quindi un lavoro impegnativo che però anche questo tipo di patrimonio andrà sia in patrimonio fotografico sia per il progetto CULTAR ma sarà recuperato all'interno del progetto Mabi, appunto un progetto che vi dicevo prima, un progetto che fa sì che tutti i beni culturali digitali quindi riteniamo anche questa campagna fotografica sia un patrimonio della città verranno quindi catalogati all'interno di questo sistema. Questo è invece un oggetto più artistico che altro e quindi è un artefatto però un'esemplificazione di cosa si può fare con questo tipo di diciamo di oggetti fotografici è stata fatta una ricostruzione proprio di tutta la facciata del lato del lato ovest della Prato della Valle diciamo che intanto volevo portare i ringraziamenti a tutto il gruppo di lavoro perché veramente hanno lavorato tantissimo e qui insomma è presente sia Enrico Vettori il fotografo che stavo lavorando anche adesso Mauro Fasoro non lo vedo ma se si alza magari è uscito e naturalmente Edoardo Castellan che è in regia in questo momento che è un po' la smacchina di tutto quanto diciamo il progetto e naturalmente Antonella Baraldi che non è qui perché è occupata in ufficio ma è sicuramente un'altra persona che ha partecipato in maniera attiva al progetto e naturalmente i nostri colleghi del settore di cultura e musei e biblioteche che ci hanno supportato nella progettazione dico solo una cosa questo tipo di progetto CULTAR è diventa Mabi diventano un po' quelle che sono delle infrastrutture per eventualmente l'erogazione di servizi in quanto pensiamo che Mabi sia debba essere un contenitore di riferimento per il marketing turistico e culturale quindi è un contenitore un'infrastruttura di informazioni e di servizi che utilizzeremo anche grazie a quello che abbiamo sviluppato nell'ambito di CULTAR per erogare mettere a disposizione erogare contenuti in un ambito però di fruizione proprio turistica a tutto campo e già nella giunta comunale cosa che ha già deliberato un progetto di rivisitazione di tutta la segnaletica turistica e com'è che l'ha impostato l'ha impostato non come un progetto di mera di facimento di segnaletica statica ma ha ampliato quello che è il concetto e quindi ha detto non mi interessa rivedere solamente l'informazione dei cartelli o quant'altro quelli diventano degli itinerari statici che sono un sotto insieme degli itinerari che è di fruizione della città che in realtà sono realizzate tramite dei motori di suggerimento e di itinerari che simili uguali a quelli che abbiamo fatto in CULTAR quindi l'aggiunta ha fatto proprio quelle che sono le risultanze anche concettuali del progetto e le ha portate in un progetto di rivisitazione della segnaletica della fruizione turistica e culturale della città ritenendo che non poteva fermarsi esclusivamente a quello che era il facimento della segnaletica turistica quindi dei segnali classici ma quello diventava semplicemente una delle parti del progetto e prenderà come base di riferimento per la gestione diciamo dei contenuti la fruizione dei contenuti proprio Mabi quindi ecco che alla cartellonistica saranno collegati dei riferimenti per poter accedere tramite l'app a contenuti che sono all'interno di Mabi piuttosto che utilizzeremo per diciamo per il suggerimento o quant'altro quelle che sono le risultanze di quello che è un po' l'esperienza effettuata nell'ambito del progetto occultare io vi ringrazio e ho finito grazie grazie ancora Alberto e grazie alla città di Padova per questo incredibile lavoro di digitalizzazione di preservazione dei beni culturali che sia così ben interfacciata con il progetto last but not least vi ho già parlato del Salvatore Andolina cervello italiano in fuga verso il nord Europa ma spesso qua per collaborare assieme a noi e con l'Università di Padova al progetto occultare ad altre interessanti cose che stiamo facendo con Helsinki University dove Salvatore è ora ricercatore nel gruppo coordinato da Giulio Iacucci si occupa di ubiquitous technology e Salvatore ha fatto un grande lavoro sull'interfaccia sulle tecnologie del progetto CalT.I.R. per cui sta per iniziare la sua presentazione intitolata Feeling My Point of Interest in the City User Interfaces for Recommendation and Multimodal Exploration Grazie Salvatore per essere qui per la tua presentazione Grazie Luciano Grazie Luciano per l'introduzione Again I'm Salvatore Andolina from Università di Helsinki and today I'm going to report on the role of Università di Helsinki CalT.I.R. And I'm going to do so by trying to avoid as much as possible any technicism and giving instead an higher level view Today we've heard some very interesting presentations about how CalT.I.R. has advanced the state-of-the-art in augmented reality verbal computing and 3D modeling for example So one of the main goals of CalT.I.R. is to also give the users the opportunity to use those things possibly together or otherwise to easily switch among modalities So one of the main role of the University of Helsinki was to build design and build the interface through which those modalities could be used and we did so by using a human-centered design approach so as also Anna mentioned we put the user at the center of the design we work very closely with the University of Padova and took advantage of the great work in interviewing questioners to come up with with some better understanding of user needs and then we build prototype and every time we give it to users to test to actually make sure they could use it so one of the main efforts also was to add a personalization layer in CoreTR as we have seen in the last presentation there are many points of interest like thousands and it is not possible to show users too much information because we take the risk of information overload so it is important to provide the users with the right recommendation and with the right with a good set of points of interest depending on the needs so our goal was to build a recommendation engine to do so we needed some parameters that were derived by University of Padova through the interviews and questionnaires for example they created those profiles that tell us that a couple is more interested in restoration evening events entertainment and so on but this is not enough we also have social information so the user can when visiting a POI and opening a POI in Coltr can rate it giving assigning a score and that could its social information also useful for building a recommendation engine but that's also not enough because there is also real-time data whatever the user is doing the path chosen time of the day there are many parameters that must be taken into account this combined all those ingredients are then fed to an algorithm that uses artificial intelligence and tries to provide the users with the best possible recommendation and this is an interface from the mobile app as we can see 3D view and there is opportunity to filter among the point of interest based on eight categories culture shopping services authors and so on and it's also possible to define how strongly we want to we are interested in culture than restaurants for example and each point of interest of course can be open and a description can be seen same applies to the AR view so with a simple click of a button we can switch mode and have the same kind of information but seeing the real world and not the virtual one one of the main most interesting things application of AR is when we can actually animate point at something and seeing it becoming like animate so for example in this situation one can simply point at the clock tower and get like an explanation of how it works and the University of Helsinki has also contributed to providing those kind of animation by leveraging our skills in the science and not only we integrated the existing technology made by other I mean partners into the app we also developed our own interaction mode the globe provides haptic feedback for a different way of exploring the city where we can actually feel our point of interest here there is a video showing how the globe works we constructed a novel haptic globe with non-visual pointing instructions the globe was designed to provide spherical guidance based on the user's handling attention and to afford intuitive selection gestures both tracking and guidance were designed for 360 degree two-dimensional space around the user instead of camera material the globe is tracking and orientation as well quando l'actuator sul centro è vibrato significa che il target è on quando l'actuator è vibrato, il glove provides diagonal guidance per esempio, quando l'actuator sull'argo e il knucco sono vibrati indicano che il target è up e left quando l'actuator sull'argo di l'index e middle finger sono vibrati indicano che il target è down e right quando l'actuator sull'argo di l'argo, tutti l'actuatori vibrate con una più rapida di pulsare selezione può essere performata per semplicemente bendire l'index finger e è detectata da flex sensori questo modo, l'aglubo provides un non-visual pointing interface con spherical tracking e guidance senza necessità di esercizare come depth cameras ok, questa è, per esempio, l'ultima versione del glove ma il video è buono per l'illustratio per purposesi quindi, essenzialmente, abbiamo un nuovo modo di interagire che è particolarmente suitable quando facciamo free exploration so, noi sappiamo che quando visitiamo un nuovo place often abbiamo un plan, un plan definito ma magari deviamo evitare da questo plan e iniziamo a esplorare potrebbe succedere che abbiamo qualcosa di più vicino e non lo realizziamo quindi, uno dei goal di l'accuatoria è anche di provare questa sensazione di un'attuazione di un'attuazione quindi, con il glove è possibile avere una vibrazione quando arrivi in un punto di interesse e anche avere un'attuazione per l'accuatoria dove il punto di interesse è penso che molti di voi in questo momento pensano ok, potete anche fare questo ci sono un'attuazione come se usate 4 square e poi ci sono un'attuazione di vibrazione e anche TripAdvisor ci sono un'attuazione per il punto di interesse quindi abbiamo anche pensato che è come che abbiamo deciso di comprare questi tipi di tecnologi per vedere le avanti e le disavanti sono un'attuazione abbiamo designato un'attuazione di iphone app che ha fatto il stesso ma che ha fatto un'attuazione visuale descrizione e visuale guidanza quindi un'attuazione quando sei in la range di POI e poi un'attuazione descrizione quando sei in POI compare questo con GLOBE plus audio quindi potremmo avere haptic feedback quando sei in la range di POI e poi avere haptic feedback per locare il POI e quando lo seleccionate riceverete audio descrizione we conducted this study in Padua in this area that you can see with the point of interest highlighted and what we found is pretty clear in this picture which is not an actual picture from the study but simplificates the typical scenario so essentially we know the iPhone app work work as nicely as the globe may possibly work but we know one of the main drawbacks of using the iPhone is that as we could see from the study 70% of the time people were actually looking at their phone so they were not enjoying the surroundings also causing some safety issues you can take the chance to go to step on the pothole for example and I also imagine many of us when we go vacation like we use we overuse our phone in our daily lives is if possible we would like to enjoy the surroundings as much as possible and do the same job without needing to constantly look at the phone so yeah to summarize this this is our contribution we designed this mobile app by using a user centered design approach and integrating all the different modalities developed by other partners and we provide a personalization layer which is very important to avoid the information overload and to handle the heterogeneity of visitors and we designed this particular interaction with the optic guidance with glove and audio cues that is proven to be more safe and enjoyable in some kind of situation such as free exploration and this suggests that in the future there should be possibly more effort into wearable computing and into this kind of optic non-visual guidance non-visual interfaces for urban exploration that would allow to possibly provide a better experience that's all and I will accept questions for to turn in manner brilliantly this work of reculciture of all the components and the various pieces that were developed during the project So that was a big effort for all big group from our university some people already left some other people are here some other could enjoy Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un'evoluzione della tridimensionalità informatica che dà un approccio al turismo e alla cultura diverso andando a toccare le motività dell'individuo con una facilità di apprendimento. E' un sistema che sono orgoglioso di avere a Padova come città pilota in Italia e posso anche dire senza tema di essere smentito in Europa. Quindi ringrazio tutti quanti per aver collaborato a questo splendido progetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ringrazio tutti quanti. È stato veramente una buona mattina. e dopo prosegue nel pomeriggio con quelli che sono invece degli incontri di approfondimento da parte e soprattutto dei partner scientifici e dei soggetti scientifici e imprese con i nostri colleghi dell'Università Europea. Benissimo. Vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo qui al buffet e nel pomeriggio eventualmente chi vuole fermarsi per gli incontri di approfondimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.